Sergio Gilioli, speleologo aquilano di 52 anni, residente a Chieti, è stato ritrovato senza vita nel suo camper, parcheggiato in una piazzola di sosta nel comune di Orbetello, in Toscana, dove era andato per lavoro, era un acquisitore di contratti di telefonia. La famiglia aveva contattato anche la trasmissione Rai Chi l'ha visto, non avendo più notizie dell'uomo, che mancava da casa da due giorni. Anche sul web gli amici avevano lanciato una mobilitazione, tanti aquilani, per chiunque avesse notizie di Sergio. Purtroppo oggi la mara scoperta. Gilioli è stato ritrovato, era a bordo del suo camper e la targa del veicolo corrisponde a quella che la famiglia aveva dato nel momento della scomparsa, denunciata anche alle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Sono in corso ovviamente tutte le verifiche necessarie. All'Aquila Sergio Gilioli è molto conosciuto per la sua attività di speleologo con il gruppo speleologico aquilano e anche con quello che lui stesso aveva fondato, gruppo Grotte e Forre dei Marchi, in seno al CAI dell'Aquila. Sulle case del decesso sta indagando la procura di Grosseto e al momento è mantenuto il più stretto riservo. A ritrovare il corpo senza vita è stata la polizia stradale che si sta occupando anche delle indagini, mentre la salma è già a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono state avviate le ricerche e gli accertamenti del caso e grazie alle celle del telefono, dopo la denuncia, è stato localizzato in una piazzola di sosta in località Talamone.